Ti prego dimmi dove andare Non lo so Non me lo ricordo Ah di una wiki No no C'è la morcetta Allora Io non sento niente Penso che sia un vantaggio Ecco ora si Ho un'idea Ho un'idea Tu hai le opzioni Hai le opzioni di No dai cerca un secondo Ho un'idea Ho un'idea perfetta No dai Lascia fare al professionista No è tutto storto C'è il micro Per favore Me lo dicevi Io lo cercavo prima Per favore Fare bordello No Tu hai poi sempre Per favore di toccare Perché non hai le mani No perché stai usando La mano sbagliata Nell'angolazione sbagliata Ma almeno dimmi cosa Ci stia sicuramente Guardate Controller Aspetta eh Qui non ci sono I tasti Le otchi Per fare cosa? Per far sì che non sia Su F4 l'accelerazione Cosa cambia? Lo faccio io Che ti frega Perché così io posso fare Porta 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 E aprire le porte immediatamente Così sentiamo la marcietta Ancora più veloce Ma andiamo molto meno Hai idea Si sente molto di più Dai lo sai che scatta La registrazione Quando facciamo quella cosa Se ci sono riuscita io Ce la fai anche tu Non è una questione di riuscire No Come no? No Esplorare questa mappa Non ha niente a che fare Con la memoria E la frequenza Con cui giochi il gioco È il motivo per il quale Ho detto che non c'entra niente Riuscire a farlo a me Appunto Quindi Io ho meno pazienza di te Il calo Il cornetto Il cornetto Il cornetto Mmm Non me lo aspettavo Ma tanto Giuseppe è perso Il diario di Amanda Per cui Figuriamoci Perché qua ti chiedono Di fare completismo Di cercare cose in infermeria Ma tanto ti sei già perso Il diario di Amanda Ti ricordi il diario di Amanda Quello nascosto Che andava Che era chiuso a chiave Quello non lo potevi aprire Quindi Ormai Il treno è passato Eh Non lo saprei mai Se voi lo rigiochiamo Nonostante la ragazza Cercasse di consolarla La piangue Piangeva ancora di più Alla fine Mi non è stata sola Che ragazza Che ragazza Che ragazza Che ragazza Sfortunata In infermeria C'è qualcosa A conto pare Devi tornare indietro Nel momento nel quale C'è un po' di contenuto Che sono solo le contenute Ormai Ti sei perso Amanda Vabbè Cosa? Stava scritto Su Metal Gear Preferito E special ops Guarda quella palla Da che riparte Oh Grazie Grazie Se no Ancora niente Lui rilascia curata Perché torno indietro? Perché ho capito Dove mi trovo Sarei rientrato Nella cucina Quale fuori? Lo so Il fatto è che Questi furbetti Con il fatto che Non esistono Te le camere fisse La regia è completamente Dinamica In base a Da dove entri E da dove arrivi Riconoscere che Ti trovi Nello stesso punto È una questione Mnemonica E non visiva Praticamente E ricambia Continuamente Allora Questa è la cucina Oh no Questa è la cucina Quindi questo è la cosa? La bucca Corridore Oh no Questa è la cucina Se questa è la cucina Allora cos'era Quell'altra Oh mamma mia Era tutto riflesso Queste porte agli angoli Che si ripetono Intanto andiamo Sotto le scale E si apre Brutta notizia Dai Sementerato ci sarà Un bambino Il fatto che lei Vada in giro Con l'armata di ascia È molto divertente Comunque Continuo a pensare Finalmente Vado a cercare I bambini E' un'ascia In mano Finalmente Esatto Tutto quello Che mi hanno fatto Passare Va bene Va bene Una bicicletta Da adulto L'epoca Era quella Non fu mai Una grande idea Va bene Va bene Qui non c'è niente Ah si Sono due porte Cella del piacere Oddio Qui non c'eravamo Mica state Il proiettore è rotto Ok Cella del piacere Aveva un proiettore Sì Nel senso Che ci si divertiva Esatto Un'altra Cella del piacere Spero Mi sa che sei rientrato Può essere Siamo da questa porta Io farò questo Due passi Cella della gioia Sì Bella Questa interazione Bella L'inquadrotura Che cambia Te la rende Ancora meno leggibile Va bene Aspetta la capricciante E Jennifer Che è sempre stata Incredibilmente Autosufficiente E fortemente Conscia di sé Ne è spaventata Si sale Senza nulla Di fatto Andiamo Ora La parte che sembrava Essere l'entrata Della cucina Era in realtà Topograficamente Un riflesso simmetrico Della casa Di un'altra parte Quindi se vado qua E vado in quella porta Che si trova Al di là Di questa Parte di corridore Qui basta mettere una mappa Comunque Non capisco il motivo Di non mettere una mappa Non sarà La cucina questa Perché è tipo Piantina dell'orfanotrofio Perché non puoi prenderti La piantina dell'orfanotrofio Conno Si chiama di nuovo qua Eh E' buono Scusami Speriamo E ti dicono di cercare L'infermeria Eh Ma perché c'è una cosa Compenetrata Compenetrata Appoggiata E' brutto il modellino Mi sembrava un bambino Impiccato Magari Uno in meno Oddio Siamo ancora qua Quindi sono due porte Saremo al primo piano Te l'ho detto Se trovavo le otchi Era fatta No Perché non era più Ancora più difficile Orientarsi Le otchi Facciamolo Non parlo del camminare Però di aprire le porte Cosa cambia Ad aprire le porte A camminare Continua a dire Mi scatta La registrazione Quindi No E' un video Tutti il fatto Quindi non è Se trovavo le otchi Le potevi pure trovare Ma la registrazione Scattava lo stesso Sarebbe scattata meno Della carica mia Allora Uh Qui non c'erano Stato Come no C'era la tizia che spazzava Amanda dici Sì Non Amanda No La bimba figa Sì Ecco la La roscetta Perché ha un nome Da Amanda Lei Ma è una faccia Da Amanda O da Alessia Ok Non ho intenzione Di uscire Da una porta diversa Da quella Da cui sono entrata Penso al panico Stai tornando indietro Il qua Non so Mi chiedo Non vai avanti No Dove è la porta Qual è l'altra porta Dove è la porta Oh Gesù Si chiamano così Esplorare Che ti devo dire Dove è la porta Aperto la porta più bella. Ora, sappiamo che non so. E si continua. E si sta prendendo abbastonata i libri ovunque, la lampada verde. Assolutamente. Guarda, guarda. Guarda, guarda. Il cane che ha fatto la darapoda? I due principessi non permisero alla ragazza sfortunata di unirsi alla loro conversazione. Ovunque andasse era sempre sola. Oh, come on. Va bene. Questa poteva essere una cazzi. C'è solo un'entrata nelle librerie. O due. No, davvero. Mi so se fosse stata la mia interazione a farle partire. Non l'avvicinarsi. Ecco la clientela. Ma perché questo sta facendo questa cosa? Per capire se c'era un'altra operata. Infatti, shh, shh, no. Sì, però sono alla stessa parte, quindi non dovrebbe essere corretta questa cosa. Dov'è? 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 L'infermeria avrà l'etichetta dell'infermeria. Sì. Non è una stanza come le altre. Spero. Eh, qua sopra ci sei già stato e chiuso. Già. Ciccia. Nessuno sa dove è l'infermeria in questa mappa così leggibile. Anche perché è finito lo spazio. In teoria. Sarà una delle due porte identiche che non hai mai visto perché ti cambia di continuo l'inquadratura. Vabbè. Sì. Ma hai letto che su era la? C'era un cartellino, magari era questa, non lo so. No, no, era la Headmaster. E non è vicino, scusami, l'infermeria. Dovrebbe? Dov'è? Non lo so, è una domanda, non lo so. Non mi ricordo, magari sono vicini, che ne so. Non lo so, questo istinto sarà venuto da una certa alberazione. Tipo lì, quella porta là, non lo so. Vediamo, li apriamo tutte. No, quello mi sa che è il mio magazzino, forse. Eh, infatti, era lo sgabuzzino quello. Dicono al primo piano. Dicono al primo piano. Al primo piano? Andiamo al primo piano. Dicono al primo piano. No, vediamo alla seconda. Mi sono lamentata di questa parte ero io che non avevo la pazienza, comunque. coltivata la pazienza del giocatore allora questo è il primo piano si rinuncia da capo corridoio non è la stanza un corridoio libreria eh io torno indietro bisogna strettacciare tutto corridoio di nuovo perché è quasi più semplice di orientarsi corridoio sono quattro porte che ho aperto tutti e quattro corridoi stai chiusa balcone il fatto che ci sia una cosa segreta tipo un segreto perché non ci sono tre porte là comunque ci sono due uno, due, tre si ma una è un corridoio possono essere stanze di destra non è scusa scale sul retro resta molto diverso attenzione sono emozionato adesso è il corridoio abbiamo già aperto venti volte no non te lo dico non sto guardando io max grazie è così non è ora quanto la lavanda vado non nessun vado non è il vado Non esiste nessuna infermeria Finito Quelle porte? Eh, quella è l'ala della classe Quello è il corridoio che porta all'ala della classe Io ormai mi sono fatto una mappa e mi manca solo Sto posto dove ci sono Vabbè ho sti cazzi Cioè Non nasce L'illecito colpo di scena è lei che sclera Comincia a fare del male Ok, questo dovrebbe essere il salone Oserei presumere che questo è un salone Dovevo ricominciare ad aprire le porte anche qui Va bene Dicono c'è una cosa per terra C'è una cosa per terra nel salone Ah si? Un pezzo di carta? Si E' vero Oh Eh vabbè si Kakami Però lo dicevi prima Dai su veramente Dirlo all'ultimo momento Dopo che abbiamo Passati 300 volte Ti sei divertito Un wonderful day Anche per te no? Dai dai che adesso c'è Una parte ancora più divertente Dicono c'è 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 Quindi non eravamo poi così tanto nella realtà Lei non ha l'età per stare in orfanotrofio, quindi ovviamente non è la realtà Non necessariamente doveva essere parte dell'orfanotrofio, però sì Ma come? Se Hoffman ne parlava con lei, doveva pulire e tutto Se fosse stata la realtà, se fosse stata adulta, i bambini non si sarebbero mai permessi di trattarla in quel modo Avrebbe fatto parte degli adulti lei Oh, e ora ci si diverte Mamma mia No Perlomeno quel gioco ti fa capire chiaramente che non devi combattere, perché sono troppi E ora si ricomincia a non sapere dove andare? Esatto Cazzo che videogioco Incredibile E Max, io l'ho proposta la coop per l'open beta di Diablo 4, ma qualcuno puzza Non è vero Dai, qua te lo dice lui che devi fare Non voglio guardare da nessuna parte, voglio guardare la soluzione, perché questo gioco si comunica Ok E la memoria non mi inganna Ah beh, forse penso che devi salire Eh sì, sì Ti devi offrire Il dono di questo mese, l'offerta finale, sei tu Cosa dirai quando sarai in trappola? Per ora puoi solo correre a perdifiato Questo, è questo, il tuo unico indizio Bello che comunque tutta la mappa è costellata, tappezzata Della richiesta degli aristocratici del gessetto rosso Vabbè ci saranno qui delle frecce o comunque qualcosa di... No, non possiamo salire Ah beh, allora, ok Non è correre a caso È un corridoio finalmente Ogni volta che si apre è una sofferenza Posso vedere cosa c'è qua? Il sorcio ti blocca la strada Can't open È un topino rosso Ah giusto Ah giusto Il maiale ti blocca la strada Ma l'ero scordato La cabra Ti blocca la strada Giusto Ah sì Dobbiamo trovare uno stracciato di con le maschere Quindi di nuovo in realtà sì È esplorare a caso Hanno così, no? Sì, hanno cure E non hanno le mutande comunque Sì, ora trovi l'infermeria Esatto, ora troverò l'infermeria Certo, qua mi sa che non siamo entrati Così Per ridere Bella fotografia texturizzata di fuori Potrebbe essere diegetica Ah giusto, qua mi spawna tutto all'infinito Perché il gioco è fatto bene Era molto intelligente Sala da bagno Ah, ah, ah Pesci Nessun pesce doveva essere ucciso Beh Perfino Minchia, ho anzi E poi Ah ma sto morendo Sì Perché sto morendo Quando ho preso danno Ma come Lasciare stare E magari C'è una porta che ha il pesce Che ne sappiamo Per come si comporta il suo gioco Sono unici Vanno uccisi Figurate Guardate Ma quanto male fanno Se pesce Me ha zoppato Con due schiacchi Ok Ok E lecca lecca ovunque Giusto Ma forse se riammazzi quelli fuori Magari hanno altre cure Sì Non è detto Non ci provi? Vabbè Non è uscito più Allora Ce l'ha, ce l'ha Lo so, lo so Ma anche l'altro Ce l'aveva Anche prima Vabbè Vabbè A posto Ok Frollino Andiamo Quanto è il Metacritic Di Roll Rose Questa è una cosa buona Esatto Ma c'erano Ma c'erano uccelli? Un po' segreto Cioè Bene Vabbè Deve ucciderli tutti Mi stai zappando Divo Quindi? Nietta Era una trappola Vabbè Ma questa è l'ultima parte Comunque Eh Devi aprire la porta Questa parte È totalmente cancellata La mia testa Chissà perché Eh Eccolo Oh Addirittura due Ok Sì Grazie Non si è neanche tolto il foglio Come no? Sono due Si è merita la capra sotto Ti ha fatto vedere apposta Perché stavo cercando l'animazione Ma che animazione? Non mi devo fare l'animazione Vedi? Ti li anerisce Ci sono due capre È tutto doppio Ci sono due topi Due maiali Oddio È pizionata Veramente Lawrence Cosa? Ti ricordo se Sussurri Non si sente niente Comunque Guarda roba Ok No no Non è il momento Con una mano sola A mezzo ai nemici No? Scavare sul resto Saliamo È il momento Io spero che stai Poi era in giro A un certo punto Spavano in stanza No Non era Area giochi Ci saranno i bambini Da uccidere I bambini Da uccidere Eіти vabbè È tu Tu Iím Tuיתte Viissez Tu 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 A Tu Studi Mi Mi i Tu Ti un ratto maiale camera al cucito due colpi non uno due un altro wow che lavoro ragazzi sì certo che l'ho finito il gioco non è un gioco che non si può finire è una rottura di palle ma ovviamente non è difficile dai dai topi sono due sì esatto no la cavra mangia la carta ah bene bene dai dai fatta in tutta questa casa ora come collezionabili mancano due cose ah c'è ancora l'altro piano c'è il seminterrato no forse no no non c'è sì c'è il seminterrato no il piano di sopra è bloccato eh tutta con questa tutta sempre con questa musica è il loop che continua è una tortura i topi sono in infermeria ti sei tolto un pensiero dai dai se mi interrato vai magari non è inutile sbirci per vedere se ci sono soluzioni io l'ho fatta senza suggerimenti che fai controlli ma io ho fatto otto ore e mezzo di live su The Callisto Protocol cioè temprata proprio devo vedere il metacritic di questo gioco io l'ammazzerei comunque per principio ah ma finito? mi sono uscito ah escono letteralmente alle fottute pareti sono infiniti? è un gioco normale sarebbe un segreto questo 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 poi no escono tutti in modo diverso per cui come no no questo era diverso ma ci sarà un limite di poligoni che può ottenere un gioco vecchio non posso essere infiniti scusami comincerà a ralentare finché era un crash dici esatto fatta era la stanza in cui il gioco poi non droppano niente? niente la stanza del benchmark esatto me ne vado vabbè basta devi uccidere pensa se ne uccidi 100 ottieni la moto ottieni supernova ottieni la moto sega non hai nemmeno la possibilità di trovare i top in e siamo interrato va bene dai dai mancano due eh si e poi è finita dai mancavano anche due bambini prima no no poi è finita poi è finita sono uccidendo e li potremmo scoprirlo io dico di provare questi non sono dopo però c'è una cosa per terra no 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 ti sei incassato perché ti sei fatto ammazzare te l'avevo detto tra molti meno d'anni no te l'avevo detto sì però adesso su chi perché non è salvato tu hai salvato sì ma chissà quando ho salvato io non me lo ricordo quando ho salvato te lo dico finita il gioco apposto questo è f3 giusto che immagino faccio f1 adesso ah ok non ho male questo è salvato di volte non c'è l'autosave cioè qua su chi è basta qua su chi è basta ripeto ho bisogno di vedere il voto di sto gioco medio il voto è 800A per me è f4 spero vuoi f4? grazie così così mi rovina la registrazione comunque continua a dire e non farlo mi hai detto di premare f4 ho capito un pesce oddio no 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 facciamo f3 facciamo f3 cioè cavolo hai appena fatto io non so dove andare ma sì dai le trovi c'è tutta l'altra ala dai le trovi c'è un sacco di sono ancora un sacco di posti dove poter andare tirato in cuscia è un topo spero che siano due dicono 59 di metascore e 8.7 di voto del pubblico vabbè voto del pubblico sono persone che pensano che fosse un gioco figo non l'hanno giocato però il metascore c'è già più senso anche se io sopra il 5 non ci andrei nemmeno sotto stupefacenti ricordiamoci comunque che a differenza di baldo dove io l'ho obbligato questo lo volevi giocare tu eh vabbè ricordiamo che per me è fondamentale è un gioco da 4 e mezzo regalato però si va giocato comunque non hai guardato la carne però vabbè è cibo per il cane per i topi per i topi vabbè per curare il cane non è servita mai no adesso manca un topo in tutta la casa dai lo trovi si quando no qua ci si è già stato ci sono i pesci scappa velocissimo ragazzi dovete immediatamente googlare i rat lo trovi io l'ho trovati non ho dubbi che ce l'ho fatta io ce la fai e allora è come l'inizio della live no poi è finito poi è finito poi è finito la parte l'ultima parte era merda poi poi è finito il gioco bagno schifo sono i topi non è qua farebbe versini dicono dormitorio ma non le hanno dati suggerimenti comunque comunque probabilmente non dice niente si so cos'è la stanza ma dov'è boh si dormirà sopra è chiuso sopra ok tu sei senza la musichetta comunque no no è altissima la sento benissimo IGN UK 4.9 bad ha ragione in strano a dirsi no per carità di dio scappa sto scappando scappare più di così quello è lo sgapuzzino non stai scappando ah è oh un topo in scappuzzino no infermeria c'è un'altra stanza comunque la sala io non taglio niente di questa live devi dire tutto no se la beccano tutta com'è perché perché vi lamentate no devono vedersi tutta l'esperienza mi dispiace ci apportuai con il pubblico no perché se tagli no perché quando tagli e poi magari arriva l'esasperazione loro l'hanno visto eh sei esagerata se vogliono accelerano l'oro scusami se vanno a saltare ma non sono esasperato sono stuccato eh sì ma ci deve bisogna contestualizzare il motivo perché se faccio un video di 15 minuti dove uno sbuffa dice eh vabbè dai solo per un po' di esplorazione no tu devi vedere l'esplorazione e com'è l'esplorazione poi se uno non vuole vedersi tutto quanto va c'è pure la bella anteprima si può vedere pure l'anteprima nella timeline con youtube col ditino li mettiamo i timestamp di quando troviamo le bambine li cercano loro ma i ancatto di baldo sono bellissimi infatti dai il dormitorio è sopra adesso lo trovi ci vuole dai fatto fatto corridoio quello è nel corridoio hai visto posto fatto trovato la strada corridoio è anche questo ma facciamo stare qua no come ci sono nella cucina no è un altro corridoio ah sì perché la cucina è dall'altra parte è tutto simmetrico questo questo visto qua non ci sei mai stato non è vero quando mai ci sei stato sei sopra non ci sei stato qua era bloccato da sotto visto hai fatto il giro sei stato bravissimo stanza dei panni sporchi esatto perché non so a che serviva niente non ci sarà niente dentro figurati poi sarebbe pastato fare una cosa un po' più scriptata no davvero chiudendo le stanze del cazzo dove non c'è niente invece di boh cioè così come mi hai bloccato la strada per salire cioè chiudilo con lo spago fai qualche cosa oh topino topino ecco sì sì appunto una mappa bastava una mappa disegnata dai bambini con gli animaletti disegnati dico due texture in più dentro il disco di gioco si potrebbero pure mettere no a posto adesso devi ritrovare finita è finita non ti preoccupare non è vero però la cosa brutta è finita sei fuori inquadratura nooo nooo no no non ce la fai stai morendo sei morto curati ti prego curati per carità di dio curati qualcuno farmi salvare qua non puoi uscire visto che devi andare nel cortile chiaramente il piano di sotto lo so stavo cercando di scendere dai fatto posto titolo di dico è finito il gioco dissolvenza al nero grazie non parli ok quindi questo sarebbe il tuo nuovo amico giusto è così lurido è una fissazione beh sì adesso è colpa il preside esatto oh sì Jennifer dopo questa cosa terremo una riunione nel club sarà una splendida giornata spero che l'apprezzerai il funerale il funerale c'era una volta c'era una ragazza che trovò un buco nel suo cortile dal buco uscì il piccolo popolo che le portò le nuove notizie oggi è il giorno del tuo funerale se non sei d'accordo devi sacrificare il tuo amico chi vorrebbe essere sepolto vivo la ragazza quindi fece ciò che doveva fare e seppellì il suo miglior amico ebbene io non avrei voluto essere lui quella storia quando la ragazza finì di leggere il libro delle fiabe gli spiriti erano tutti svaniti e non c'era più traccia nemmeno del suo caro amico proprio allora la ragazza crede di sentire la voce il suo caro amico chiedere aiuto poi mi sono appena accorta che in molti video di questa serie sembra che c'è il rumore del microfono mentre in realtà è l'audio del gioco sì con rumore elettrico tipo non è il microfono che fa rumore è l'audio di gioco che ha questo suono non so perché questo fisso non è l'audio sporco del microfono continua a cercare di uscire da questo fenotrofio comunque di nuovo non si sa dove andare 4 è un regalo cosa? 4 è un regalo? voto sì cioè si è tornati ti ha detto che c'era la riunione degli aristocratici e ho capito dove sopra sopra come fai a saperlo? c'era l'unica porta con la rosa e noi siamo interrato dici che siamo interrato ma no dico che l'unica porta con la rosa è nel semi interrato ma i bambini non li avevo incontrati sopra la prima volta scusami i bambini sono sparsi no la parla all'inizio non si è già entrato sopra non avevano fatto le cose nella soffitta all'inizio vogliamo provare ad andare in soffitta io mi ricordo che era sopra ok e infatti il cab è nella soffitta ma poi c'è tutto lo spazio aperto le candele è sopra sì ma una cosa è dire oggi faremo una riunione un'altra è dire l'amico chiede aiuto allora andiamo sopra cerchiamo di capire come si arriva sopra adesso ovviamente perché bisogna passare per una delle stanze che conduce allo shortcut che ti portava alla sala superiore dove c'erano le tre porte dei petali di quadrifoglio eccoci ce l'abbiamo fatto non è il caro amico della ragazza cosa gli è successo che sia la ragazza era un fascio di nervi nella sua testa continuava a vedere immagini terribili nemmeno questa volta era il caro amico gli deve essere successo qualcosa di terribile facciamo una nota ma ancora e ancora non si trattava dell'amico della ragazza sul tavolo ci sono degli strani attrezzi tutti schizzati di sangue riprendimi il culo questa non me la ricordavo non fai neanche ridere questa non me la ricordavo questa porta era chiusa prima non ci potevi entrare che cane il lurido brown sepolto ho capito hai inizio gioco ho capito no il problema è l'inizio chi seppellisce la vince chi seppellisce la ragazza si si è proprio questo il problema del gioco la cosa disturbante si si è l'inizio è l'inizio Attenzione Eh, non si era mai vista C'era la... nel senso c'era La bambola prima Posso subito, te lo ricordi? Cioè, si è vista lei ma non vestita così Appunto Non vestita in rosso Eh, era la bambola all'alonga Esatto My friends Give me back my friends Liar Go away Go away Never forgive you Not ever And as for the rest of you How could you believe all those lies? Aristocrats You're just the opposite I hate you And I hate you And you And I hate myself the very most For playing your stupid games And not having the space to stand up to you It's all just hideous And you're just the opposite No, I, I Bye Bye, bye Bye, bye Hmm Ok, continuano a vedere casse, sacchetti, no? No Sì che poi infatti hanno edulcorato Perché ovviamente Brown non era adulto Era un cucciolo Aveva il cuccioletto E gli hanno ammazzato il cagnolino Eh infatti C'era nuova una bambina Che diceva bugie Le piaceva spaventare gli altri bambini Urlando Arriva il cane randaggio Ma presto la gente smise Di spaventarsi E prese a odiare le sue bugie Un giorno La bambina corse a casa gridando Arriva il cane randaggio davvero Tutti pensarono che si trattasse di un'altra bugia Solo che questa volta Non lo era E tutti vennero divorati Ok E' la favoletta A lupo a lupo Oh no Bene Il tuo amico ha compiuto Trasgressioni più gravi Ormai nessuno può più fermarlo Non lasciarti dominare Dalla falsità E' questo il tuo unico indizio Al cane To no E' il cane Anche 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 Oh, cia-cia-cia Madonna, lo sgambetto sulle scale Lì, lì Lì, lì, mamma mia Adesso devi ritrovare tutti i bambini di nuovo Ugo, fermo Ugo 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 Ugo, mi tira Ugo Non viene a frega niente Ugo Eh No, no, adesso, eh? No, un momento Che sta finendo? Ugo 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 Grazie a tutti. 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 Esatto. Non so se puoi guardare fuori dalle finestre, comunque, onestamente, non lo so. No. No, tipo, magari è là un'altra stanza, però. Eh, vabbè, la mappa ormai è finita. Eccoci. Esco dalla porta. Finalmente la porta. Sì, sì, sono urla, certo che sono urla. Questa è un'altra stanza, è un'altra stanza, è un'altra stanza, è un'altra stanza. Once upon a time. è un'altra stanza, è un'altra stanza, è un'altra stanza. guarda, guarda. Guarda l'inventario anche. Guarda l'inventario anche. Sì, sì, sarò armato. Ah, ho tutto. Eh, appunto. Vabbè, coraccio. Ma che sto guardando? Anzi, anzi alle mutande. Apprezzo che gli abbiano messo le mutande, perché... Gli possiamo dare la carne, vi chiedono. Ah, sì? È vero. Forse sì, perché... Alla fine, magari è per brown, ma puoi lasciarla a terra e... Forse sono in animazione. Sono in animazione e posso... No. Ci ho provato. Dai, sto cercando di fare i due attacchi e poi allontanarmi. Vai. Boh. No, no, ma il problema chiaramente era all'inizio, la bambina dentro la cassa. Vai. Non si può interrompere. Ci ho provato. Due colpi è il massimo. No, ero convinto di stare abbastanza lontano. Non ho attaccato a posto. Non esiste abbastanza lontano in questo gioco. Un brato molto, brown, comunque. Forte il cane, molto forte. Non è così... Dove fa fare i scemini? Un becco. Un becco. Un becco. Un becco. Tarbookato. sono morti su se due perfetto a cell qui hanno finito i soldi è lo spazio quindi non hanno doppiato tipo il dialogo più importante arma Gregory una pistola è un colpo guardala ce l'ha fatta vedere prima vabbè ha fatto vedere lo sprite e la descrizione non c'era scritta la descrizione prima vabbè delle incisioni io non dico niente quel cane? c'è una cosa su fuori cosa scusa? eh I'm sorry eh si ma mi sta dicendo qualcosa? no dico c'è anche una cosa sulla porta mi sa ah ah ti è fermato non posso andarci io so se posso fare qualcosa di alternativo ma non ci puoi andare se punto non si intimorisce non si intimorisce ok ok niente ok niente ci ho provato è semplicemente pazzo un po' pazzo un pelo non in perfetto equilibrio ecco sta una favola una favola sta benissimo ciao ciao non ha sentito niente ciao altri ghost pensavo che fosse una gimmick un po' pazzo 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 il circle wipe a nero devo sparare al cane ovviamente un po' pazzo ho Perché allontani troppo Ammesso che ci sia qualcosa da fare Non lo puoi fare Madonna che maestro I'm sorry, Joshua Hmm, hmm, yes Beh, qui, un tiro al palido Non lo puoi fare Non lo puoi fare Col cagnolino Ammazza Una storia di ossessione Questa lettera mi sembra familiare Non mi sono così sollevata Non mi sono così sollevata Ah, ok Guarda come va dritto per dritto Non guarda niente Guardatevo guardare Non voglio respirare le stanze di questo posto Pensavo ci fosse Il rumore fosse uscire Uscire con loro Cosa c'è da guardare Non mi stai dicendo niente? No, è ovvio che ci sono cose Eh, potevano esserci cose anche fuori Eh, potevano esserci cose anche fuori, no? No No, no No, no Fai come vuoi Dico Fai come vuoi Fatico di tutti i posti Che puoi andare a guardare Apri le porte del cesso Non so cosa ci vuoi trovare dentro Eh, dai Non ti preoccupare Fai come vuoi Cioè Io capisco anche Che non ti va Di rigirartelo di nuovo Certamente non è intuitivo Fatto che ti fa venire voglia di farlo Ecco Stanza di Marta Qui ci sono un paio di lettere Della polizia Una multa Verde Signor Gregory Wilson Gentile signora La preghiamo di perdonare No, oggetto Signor Gregory Wilson L'oggetto della lettera È Gregory Wilson Che è il nome La pistola di Gregory Era il tizio La base La preghiamo di perdonare Il nostro ritardo Nella risposta Nella sua lettera Ci ha riferito di attività sospette Da parte del signor Gregory Wilson Dopo alcune indagini Siamo giunti alle seguenti conclusioni Non ci sono indizi significativi Che colleghino il suddetto individuo Con i recenti rapimenti È genitore di un figlio Che corrisponde alla descrizione Fornita nella sua lettera Ma purtroppo Abbiamo giudicato le prove A suo carico Insufficienti A giustificare ulteriori indagini Apprezziamo molto Dalla sua collaborazione Confidiamo che comprenderà Le nostre ragioni Dolittle Agente Dolittle Il mio nome è Martha Carroll E lavora all'orfanotrofio Del Giardino della Rosa Negli scorsi mesi Ho inviato sei lettere Alla sua attenzione Ma non ho mai ricevuto risposte Le sono arrivate Le chiedo di svolgere Delle indagini Su di una faccenda Per salvaguardare Le incomodità Dei nostri bambini Martha era la Tizia La strega Ieri Le ho visti ancora insieme Il signor Wilson e Wendy Una ragazza del nostro franotrofio Sono molto preoccupata Per la sua incolumità Quei due si comportano In modo piuttosto strano Anzi Terribilmente Il signor Wilson Camminava a carponi E faceva cenni col capo Wendy invece Sembrava che lo stesse Sgridando Non saprei come descriverlo Mi ricordava L'addestramento di un cane Ma c'era qualcosa di sbagliato Solo a pensarci Mi vengono i brividi La prego Svolga delle indagini Su questa faccenda Appena le Termina qui Forse Se questa Fosse stata Resa pubblica Le cose Sarebbero date Diversamente Gli adulti Sono così Egoisti Invece i bambini Si sono dimostrati Incredibilmente Empatici I bambini Sono gli orfani Che hanno chiaramente Dei problemi In quanto orfani Non sappiamo Le origini Dei vari bambini Ma chiaramente Sono finiti là E non sono neonati Non stanno benissimo Comunque Chissà che cosa hanno passato Comunque L'infermeria Non l'abbiamo trovata In tutto questo No no Non si è mai trovata Vabbè C'è pure Hoffman Volendo Magari c'è qualcosa Hoffman è giù Lo so Ok Non te lo ricordi Stavo cercando il dormitorio Non so se Qui è veramente Ma non hai la mappa Soffocante Ah si Dovrei avere la mappa adesso Piano Allora Non serve a niente No Il dormitorio Lo riconosci Dov'è Sì ma la mappa Senza i nomi dei posti E Ecco Sarà quello No Sarà la Questa potrebbe essere Laura Ma quello è il dormitorio Ci sono i letti Eh Probabilmente si era trovato Il suo cane Non c'è niente Sì sì La mappa di Callisto Esatto Quindi i bambini Che sparivano Ti ricordi cosa c'era Nel giardino Di Gregory Purtroppo sì Allora Se quella fosse L'infermeria Lì No Non è l'infermeria Ci siamo 200 volte Purtroppo Che cos'è? È il corridoio Che porta il bagno E altri cessi Infermeria L'infermeria L'infermeria Non esiste Però Sì è qua Da qualche parte È una di queste porte No 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 Infermeria E gli amici Che ci siamo fatti In questo viaggio Le le ho qua Recentemente i bambini hanno iniziato a dedicarsi a strane attività e a spargere strane voce Storie di creature malvagie, di cani d'andaggi che rapiscono i bambini I cattivi che non hanno fatto le pulizie L'atmosfera è inquietante Oggi avevo un sacco da fare perché ero indietro col lavoro Quando Clara è venuta a darmi una mano Beh Vedo che finalmente i miei insegnamenti stanno iniziando a dare i loro frutti Sono stato grato della sua gentilezza Alle prime ore dell'alba stava ancora lavorando Così l'ho portata gentilmente fino al suo letto Faccio fatica a crederlo Piccola Clara Dio al benedica ha già 16 anni Bene So È troppo grande ormai Mi ha detto di voler restare all'orfanotrofe per darmi una mano con i lavori di tutti i giorni Forse dovrei prendere l'offerta seriamente in considerazione Ne discuterò con Marta Quale cose terrificanti che mi attaccavano erano solo frammenti della mia immaginazione La mia preziosa carpa è sparita È sicuramente colpa dei bambini e non ho nessuna intenzione di tollerarlo Dov'è finita Diana? Cosa stava combinando? La mia opinione di lei risentirà di questo incidente Che è la sirametta di Ricordica? Diario continua Ma l'ultima pagina è particolarmente interessante È l'ultima annotazione del signor Hoffman prima della sua scomparsa Me ne sto andando dall'orfanotrofio Qui resterà Clara E i bambini stanno crescendo in fretta Ho lavorato bene Ho fatto il mio dovere Dannazione Tutti i guai sono iniziati quando è arrivata quella terribile ragazzina Ma non ho fatto niente per meritarmi questo Da allora non rivediamo più il signor Hoffman Sempre alle sette e un quarto A disperazione No, 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 cerco le capre che fanno i versi Le maialini Eh, pure Vabbè, in questo caso sì, ma ci sta Sì Eh, lo so C'è lo anteriore Ok, ce l'ho scritta in tata Sì È il momento di prendere la pistola di Greco Ah, non ce l'hai più Peccato Sì, ma infatti questa è da seppellire Sì, ma infatti questa è da seppellire Sì, ma infatti questa è da seppellire Momπα Sì, ma infatti questa è da seppellire E io non sono di più Sì, ma infatti questa è da seppellire Quindi l'hug pie può essere più volente occludere l'odio ma quando lo è è una relazione tossica quindi non è una giustificazione in ogni caso se l'amore ti fa fare certe cose diciamo che ci sono dei problemi comportamentali in corso che chiaramente ci sono e sono contestuali perché appunto non stiamo parlando di adulti non stiamo parlando di bambini normali però appunto non è siccome eh vabbè era innamorata allora va bene oh che è pure dove trovi il collare no all'inizio esatto piccolo zoppissima lei comunque ecco se c'è un muro devi tornare indietro esatto questa è la morale di role of rose l'apex del suo design comunque è rottissimo capisco che quelle scarpe le faranno stramale però sì ma non volevamo esaminare questo esatto non stai leggendo niente l'ho salvato brown come aspettami brown non ci ho parlato hai una storia da raccontarmi una storia allegra per favore raccontamela mio figlio sta aspettando perché devo salvare brown devo fare qualcosa che non l'ho fatto onestamente non me lo ricordo però se adesso vado avanti si blocca tutto perché non ho cliccato su un oggetto accanto a brown tanto salviamo forse vi tornare va bene questo è smattato completamente F4 vai no 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 lascia F4 se no non riusciamo a trovare l'oggetto aspetta qui 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 no dentro c'è lì c'è il cavaliere forse devi parlare devi fare qualcosa qua infatti lo so eh esatto esatto era così ovvio una bellissima calligrafia tra l'altro oh 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 Grazie a tutti 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 Joshua, Jennifer, l'orsetto Wendy, che cosa è successo? Wendy aveva la parrucca Si, Wendy Si era vestita da Joshua Esattamente Eh, Finley è abbastanza... Non è che Wendy era Joshua? No, però era vestita da Joshua L'orsetto... L'orsetto si chiamava Joshua, giusto? Si, l'avano chiamato Joshua Però vabbè, non c'entra chiaramente Un bambino vestito da Joshua Esatto I genitori di Jennifer, l'incidente Perché noi siamo arrivati con l'autobus in teoria Si, si è arrivato con l'autobus da grande Si è arrivato con l'autobus Non c'entra l'autobus Cioè, distinguere realtà e finzione è completamente... Non chiaro Cioè, quindi qual è la realtà? Non è neanche esplorato, comunque Merda Passo otto ore in tutte le stanze uguali Cioè, è durato il doppio di quello che avrebbe dovuto Vabbè, fondamentalmente, diciamo, è successo un incidente all'orfanotrofio E fin lì... È il cane randaccio Si Sono morti tutti Esatto I vestiti fuori Erano i bambini morti Esatto Che lei ha represso, non li vede, vede i vestiti, chiaramente Esattamente Wendy era fissata con... Con Jennifer Con Jennifer Wendy stava male Stava sempre male Era sempre malata Sempre sola E quindi c'era Jennifer che l'andava a trovare Ugo! Va! Ugo! Ma sei impazzito? Ma stai scherzando? Vabbè Jennifer È arrivata allo... Capito? Si è avuto l'incidente, i genitori sono morti Esatto È completa Cos'apre questa porta? Oh no L'hai persa per sempre Non potrai mai A cosa servire? Ma mi pare che ti fa entrare... Di costume? Si Cazzate Non è una cosa... Stanza... Ok ok Per i costume No ma Ugo ha fame Per questo sta facendo così No no ma questo è il classico titolo in cui serve un ending explained Perché... Vabbè Sì Vabbè C'era il... Il tipo Gregory Ha perso il figlio Esatto Aveva veramente un figlio lui Perché c'era la stanza del bambino E' stato coercito da sta ragazzina che si è estivato lui Completamente rotto mentalmente Sì ma lui aveva una bambina a casa che chiamava Joshua e la teneva con sé Sì Comunque Ma non era suo figlio No Perché il figlio era morto ma lui aveva... Esatto E per cui non lo dico è stato coercito L'aveva preso Trattava Jennifer come un bambino Facendo finta che fosse Joshua Jennifer? Trattava Jennifer? Sì Ok Poi Wendy l'ha salvata Ah sì è vero Wendy l'ha salvata È andata all'orfanotrofio È vero E si è fissata E si è fissata Solo che poi appunto è arrivato Ha trovato Brown Wendy è diventata gelosa di Jennifer Gli hanno ammazzato il cane L'hanno comunque appunto Brown è morto Sennò che Jennifer non gliel'ha perdonata Sì E siccome erano principe e principessa Esatto E Wendy si è sentita ancora più sola Si è vendicata Spingendo il randaggio a fare Cioè l'ha addestrato come cane diciamo Sì Era il gioco di Joshua Ha fatto finta di essere di nuovo Joshua Ha fatto sì che il randaggio Andi si attacca Sì Che quello era impazzito Esatto Facceva tutto quello che voleva il figlio E vabbè intanto Hoffman se n'era andato Che probabilmente c'era anche il merdaio Era successo Quindi attelato Comunque era Era gli anni trenta Quindi non è che c'era internet e tutto È rimasta Marta E Clara Condimentalmente Che era una povera stronza Che chiedeva alla polizia Che diceva aiuto Qui c'è uno strano I bambini spariscono E tutto quanto E poi Invece Tra l'altro i bambini sparivano Ed era uscita fuori la storia Dei bambini che non facevano le pulizie E venivano rapiti Esatto Perché i bambini sparivano E poi però Una sera di notte Con la tempesta È successo il patatrack Fondamentalmente Sono stati La polizia se ne è fregata Va bene Esatto Esatto E sono morti tutti E diciamo che Jennifer si è sentita in colpa In un certo senso Perché chiaramente Ma molto Salentilliano E come cosa Alla fine Wendy ha fatto quello Perché Bla 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 Solo che poi appunto C'è il perdone E la comprensione Fondamentalmente Che storia E che gioco di merda Tra l'altro Mamma mia Mai più Però Ricordiamoci Cioè Tu lo volevi giocare Quindi ti sei fatto Anche questa esperienza Ti sei divertito molto Soprattutto Più che altro È brutto Non riuscire a dedurre La storia In maniera lineare Nonostante Le informazioni Perché Sono veramente Esposti in maniera terribile Ma più che altro Anche il discorso Sì ok Non è esplorato Ma non è la voglia Di farlo Cioè Questo è il fatto È Pesante Fatto male L'esplorazione È lento È pieno di niente Il combat system È una merda Sì Poi appunto Anche dici C'è il bad ending Ma non è vero Cioè palesemente Non è un finale Che funziona Non è un finale Cioè È una presa in giro Quella cosa Non è un vero finale È un'interruzione Cioè sarebbe stato carino Secondo me Se effettivamente Potevi scegliere alla fine Esatto Invece no Sì Poi quello si è ammazzato Fondamentalmente Sì 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 Perché comunque Si è reso conto anche Probabilmente si era anche reso conto Di quello che aveva fatto Esatto esatto E quindi Appunto Sono contento di averlo giocato È stato importante Più che altro Devo dire Qua non è chiaro neanche a me Comunque Jennifer si è salvata Sì ma è tutto molto distorto La realtà e la finzione Non sono incomprensibili Cioè si è salvata È l'unica che si è salvata Wendy probabilmente È morta pure Perché c'è quella scena In cui lui la tira dentro Sì 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 Per cui probabilmente Appunto anche Wendy muore Però è strano Che comunque era vestita da Joshua Eh ma si è rivelata E quello l'ho fatto E quindi dici che Comunque Randa Già ha riconosciuto Joshua adulto Sì sì E quindi ha smesso Perché l'ha riconosciuto E ha chiesto scusa Esatto Vabbè sì Sì Che poi appunto Disturbanissimo Ma anche Hoffman Tutto con la mano in bocca In quel modo La sirenetta È pieno di cose Super super Fazzesco La Marta Sì Che viene tutta rotta Mamma mia Cioè un sacco di cose No no è fortissimo Terribili Veramente risonare Ed è un peccato appunto Perché un gioco del genere Fatto bene Sì Fatto bene come gioco Perché c'è un Questa è la classica situazione In cui secondo me Questa storia Se fosse un film Fosse stato un film Ah sì 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 Sarebbe stata incredibile Sì è vero Cioè poteva diventare Veramente un cult Fuori di testa Come film E secondo me funzionava Tranquillamente come film Sì 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 Ma proprio tranquillamente Cioè questa Io la metto alla pari Come Jacob's Ladder Come storia Cioè poteva tranquillamente Essere un film Della Madonna E invece è un brutto gioco E chi dice Che non lo è Mente a se stesso È un gioco di merda Sì certo ovviamente Cioè è proprio un gioco di merda E non è vecchio Non è vecchio Non è minimamente vecchio 2006 Cioè non diciamo cavolà Non è un gioco vecchio È un gioco brutto Ed è un peccato È un peccato Poi va bene Te lo giochi sicuramente Perché è un'esperienza Sì però Cioè però dici bello Bellissimo ma Esatto Basta Poi magari te lo compri A 400 euro E te lo giochi 40 volte Perché con tutti i soldi Che ho investito Esatto esatto Però Siamo onesti Siamo onesti È un gioco Gravemente insufficiente Sì sì gravemente Non è che siccome Ha la storia bella E le musiche Beh poi sono tre le musiche Sì sì C'è anche lì Non è che è una memorabile host Sono tre musiche Riarrangiate Molto belle Però No no Perché Cioè per me Non raggiunge la sufficiente Anche in quel caso Anche in questo loop Del cazzo Ma no ma Perché non baldo Ha un voto superiore a questo Come videogioco Sì Sì Alla fine Come videogioco Sicuramente Ah sì 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 Cioè baldo ha dei grossi problemi Antintuitivo Però Comunque Mi dia gioca sopra a questo Per quanto mi riguarda Sì Assolutamente Onestamente sì Poi appunto Questo è un gioco Che va giocato Un gioco memorabile D'accordo Ma continuo a dire Che questo fosse stato un film Sarebbe stato solo meglio Sì sì Perché secondo me L'interattività Giunge molto poco In questo caso Cioè non hai nemmeno Le scelte alla fine Non hai neanche Veri Cioè hai segreti Ho capito Ma sono nascosti Fra uno scassamento Di minchi e l'altro Ma infatti Io guarda Sono contenta Che hai avuto modo Di provarlo Perché io ricordo Chiaramente L'esasperazione Quando l'ho finito Che mi hanno In un certo senso Fatto sentire anche in colpa Perché dicevo Cavolo Cioè Mi ha rovinato Il mood Alla fine Perché Mi ero rotta le palle Ed è un peccato E non è Una questione di L'ho giocato tardi No perché quando è uscito No è uscito L'altro ieri il gioco È uscito l'altro ieri Mi fa piacere Tu sei quello Che invece Ha la pazienza e tutto Ma si è rotto il cazzo Più di me Lui Comunque Comunque Però Niente Questo è Il disturbante Gioco Da 4.000 euro La bambina La bambina seppellita Che è chiaramente La cosa più disturbante Quindi Se vuoi dire qualcosa Oh no ho detto Ragazzi Grazie per la seguita Che è stata comunque Educativa per me Non so adesso di chi si parla Se ne potremmo parlare a lungo Ecco abbiamo Questo è un altro pezzo Dell'esperienza Grazie Grazie per la compagnia Buon pranzo Buon pomeriggio Vabbè Voi vedete Mi ripareremo Ciao